Il tramonto è un momento di equilibrio perfetto. Può accadere qualunque cosa, come se il tempo si arrestasse. È una trago dalla vita. Io mi sento meno disperata quando lo guardo, perché mi fa sentire ferma. Come se non dovessi andare avanti più di così. Come se non dovessi andare avanti più di così. Come se non dovessi andare avanti più di così. Come se non dovessi andare avanti più di così. Come se non dovessi andare avanti più di così. Come se non dovessi andare avanti più di così.